Dopo la richiesta di dimissioni dal centro-sinistra, le polemiche anche dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, che è tornato a parlare a distanza di qualche settimana della questione riguardante le aree di risulta, illustrando la posizione dell'ente. Noi abbiamo, seguendo un ITER che era segnato da circa 20 anni, abbiamo fatto un bando per un'operazione pubblico-privato, perché abbiamo 20 milioni di euro e per l'area di risulta occorrono 54 milioni di euro. Questo è il tema. Allora abbiamo fatto il bando invitando i privati a partecipare a questa iniziativa, ovviamente cercando gli equilibri tra il pubblico e il privato. Poi c'è il Covid che questi equilibri in qualche modo li ha modificato, evidentemente i privati in questo momento non ritengono di fare un investimento così importante su un'area dove c'è una gestione dei parcheggi per un tot numero di anni che evidentemente non hanno ritenuto congrua per l'operazione. Noi continuiamo ad avere 20 milioni di euro, a questo punto se l'operazione pubblico-privato non è andata avanti ci muoveremo con un'operazione tutta pubblica, sapendo anche che oggi la regione ci ha chiesto di poter usufruire di una parte dell'area di risulta per fare il palazzo della regione, cioè la sede della regione Abruzzo. Il primo cittadino ha poi spiegato che la priorità sarà quella della bonifica dell'intera area che dovrà essere fatta con fondi pubblici. Un'altra criticità che abbiamo rilevato è stata quella legata alla bonifica dell'area perché quell'area è un'ex stazione, quindi la bonifica è necessaria, una bonifica che è in qualche modo da approfondire e i privati anche su questo si sono fermati, non sapendo che cosa ci fosse. Quindi ci muoveremo facendo anche operazioni di bonifica sapendo che quel percorso sarà quel percorso che poi ci porterà alla realizzazione di tutto il parco che noi vogliamo fare, che è un parco di 65 mila metri quadrati che cambierà il volto della città oltre ai parcheggi che sono necessari per il centro commerciale naturale che abbiamo sviluppato nel tempo nella nostra città.